La Regione Abruzzo ha presentato oggi a Pescara un progetto di Wi-Fi free per i comuni costieri abruzzesi che contribuirà a migliorare i servizi ai cittadini e ai turisti. Palesi la soddisfazione dell'assessore al turismo di Dalmazio per la firma delle convenzioni con i comuni. È un progetto innovativo perché nella sua dimensione tutta la costa fruibile attrezzata abruzzese attraverso i comuni che verrà resa accessibile con un progetto di accessibilità facile, semplice, molto smart e su un tema di servizi che è un tema decisivo perché oggi la sfida si gioca sulla qualità dei servizi e sappiamo benissimo che l'accessibilità alla rete è uno degli elementi più importanti e quindi abbiamo voluto dare questa struttura importante alla nostra costa, il nostro prodotto balneare che è il nostro prodotto principale, chiaramente è un punto di partenza e abbiamo fatto in modo nonostante tutto deponesse con i tempi normali per la realizzazione del progetto per l'estate prossima e di anticiparlo a quest'estate per non perdere il veicolo promozionale dato dalla presenza di tanti turisti già quest'estate ma soprattutto per guadagnare una stagione o una parte di stagione. Abbiamo lavorato a tappe forzate, a ritmi forzati, abbiamo oggi firmato le concessioni finanziamenti ai comuni che adesso avranno 15 giorni per realizzare e far partire il servizio. Siamo assolutamente contenti perché da alcuni sondaggi che abbiamo fatto è uno di quei servizi che sicuramente riuscirà a penetrare i mercati sicuramente riuscirà a aumentare l'appeal e l'attrattività dell'Abruzzo come destinazione turistica. Quindi in un momento tra le altre cose in cui abbiamo lanciato questa campagna per intercettare i turisti del last minute per la stagione estiva che sta avendo molto successo su tutti i network nazionali e quindi questa notizia contribuirà ulteriormente a rafforzare il brand e l'immagine dell'Abruzzo. Ecco Assessore, qual è lo stanziamento e quali sono le aree che saranno attrezzate con il Wi-Fi Free? Dunque, lo stanziamento è di un milione di euro che verrà dato ai comuni, ai 19 comuni della costa che saranno gli attuatori dei progetti che ci hanno presentato individuando le zone di litorale del proprio comune da servire. Saranno oltre 80 chilometri di spiagge attrezzate servite, quindi la quasi totalità delle spiagge attrezzate dell'Abruzzo. Il progetto prevede dei vincoli minimi in termini di parametri per garantire l'efficienza e la velocità della connessione ai quali i comuni dovranno attenersi, pena revoca del finanziamento, ma credo che non ci saranno dubbi perché la disponibilità dei comuni è stata totale in questo senso e ci sarà poi il processo di autenticazione unica che consentirà dal nord al sud dell'Abruzzo di avere un unico accesso, un unico riconoscimento per poi avere un accesso assolutamente semplificato.